Io e la Camusso siamo abbracciati da molti anni, non abbiamo bisogno di scupe, nel senso che la CGL da molto tempo segue la Puglia, segue anche i progetti politici pugliesi, devo dire, anche me personalmente per quel che posso sapere, non sempre siamo d'accordo con la CGL ma sappiamo di avere una responsabilità comune in due ambiti diversi, quello della politica e quello del sindacato.